Era il 2006 quando Silvia Toffanin ha preso il timone di Verissimo dopo una stagione, non proprio fortunata, condotta da Paola Perego. Ricordo che ero molto emozionata e agitata, ha dichiarato fra le pagine di TV sorrisi canzoni, ripensandoci oggi provo una grande tenerezza per quella Silvia. Venivo da tanti di anni di conduzione di non solo moda, che era un mondo diverso da quello di Verissimo. Quindi ero sicuramente un po' impacciata eppure un po' rigida. E ancora, sono cambiata io perché inevitabilmente cresciuta e maturata grazie alle esperienze accumulate e alle prove che la vita mi ha messo di fronte. Verissimo, invece, penso mi abbia ammorbidita e mi abbia regalato la possibilità di essere più libera nell'esprimere le mie emozioni anche in trasmissione. Silvia Toffanin, conduttrice di Amici Verissimo. Questo autunno Silvia Toffanin condurrà tre puntate di Verissimo speciale Amici in prima serata in cui celebrerà tutti i talenti di Amici usciti nel corso degli anni. Ho sempre detto che Verissimo per me era abbastanza. Ma celebrate i talenti usciti da questa scuola eccezionale, è una bellissima idea. Una proposta che non potevo non accettare e che mi rende felice. Posso dire di averli visti crescere e diventare certezze della musica e della danza. Quindi, condurre questo programma per me sarà un onore. E nello stesso tempo sento già un grandissimo senso di responsabilità nei confronti di Maria De Filippi e dei talenti che Amici ha fatto sbocciare.